Massimo, oppure Sara, ditemi una canzone famosa dei Beatles che volete... facciamo un esercizio di stile, tipo... Eh, facciamo... Sottomarino giallo? Perfetto, Lady B. Allora, ok, ho chiesto Lady B. Ma no! No, 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 allora, facciamo Ay Jude, no, facciamo Ay Jude, Ay Jude, Ay Jude, Ay Jude. Facciamo Ay Jude in versione... Abbiamo richiesto Yellow Sunmarine. Esattamente. Ma, ma di Ciri ci teneva un sacco a Yellow Sunmarine. Facciamo giustamente quello che è stato richiesto, Ay Jude. Ay Jude in versione Yellow Sunmarine. In versione normale, diciamola lineare, vai. Sembra la sigla di Caterpillar. Sì. Attenzione adesso a un'altra versione, perché l'Università del Wisconsin dimostrò che la produzione di latte... Appunto, nelle mucche che ascoltavano musica dei Beatles, aumentava del 9,25%. Per non parlare poi del fenomeno detto a melodia ecclesiale vaticana, perché celebra il caso di un parroco di Frosinone che durante la celebrazione della Messa intonò un innovativo canto gregoriano. Ehi Judas... Nume abruptum facere... Pilatum cantum... Et illum aptime... Et gloria in excelsis Deo... Il gloria in excelsis Deo 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 Deo... Il gloria in incelsis Deo 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 Deo...